buonasera benvenuti in onda da lucatelese dalla sabauta di ghiaccio che per una volta riscaldata sono la tua quota rosa personalissima e allora c'è la crisi economica le famiglie italiane fanno fatica ad arrivare a fine mese un giovane su tre disoccupato quando un lavoro ce l'ha è quasi sempre precario di contro a tutto questo c'è l'italia dei privilegi dei compensi e vitalizi d'oro delle cosiddette caste che invece di fare sacrifici come la gente normale ancora tutta lì immutata l'ultimo affresco da mal di stomaco ce lo offre mario giordano direttore di news mediaset editorialista del giornale è presentato bene insomma da mal di stomaco no lo dice lui che il libro doveva avere come gadget il malox quindi denunciamolo subito allora scritto sanguisube che è proprio un viaggio tra le pensioni d'oro tra estremi inquietanti come la pensionata che percepisce solo 78 centesimi al mese il record invece del manager anche lui pensionato ma da ben 90 mila euro al mese insieme a giordano a parlare di queste distanze assolutamente inaccettabili abbiamo invitato paolo cirino pomicino politico di lunghissimo corso con una pensione sostanziosa scrive giordano ben 9 mila 363 euro al mese così pomicino si giordano colpisce perché indica il lordo naturalmente quindi fa impressione ma netto non diventano mille euro è comunque sarebbe stato strano anche se arrivasse a mille euro perché credo nessuno ha detto oltretutto cominciamo subito no 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 qui manca un dato manca le pensioni dei giornalisti io non ne ho trovato nessuno le aggiungiamo le aggiungiamo strada facendo insieme a noi anzi tra di loro abbiamo invitato in studio katia scannavini che una giovane precaria romana fresca di licenziamento niente meno non si deve neanche dire licenziamento e come si dovrebbe dire annuncio di interruzione del rapporto perché è importante ma ciò spiegherà perché speriamo che insomma non venga confermato comunque da parte niente meno che l'agenzia del ministero del lavoro proprio nel momento in cui dove andare in maternità è al sesto mese esatto dopo ci raccontare la sua storia anche cosa pensa lei perché importante volentieri di vista dei privilegi e delle pensioni d'oro dei politici ma non solo ma partiamo subito dal commento autorevolissimo si fa per dire ovviamente sul libro di giordano di genegnocchi ciao luca ciao luisella un saluto ovviamente i vostri ospiti stasera so che parleremo del grande mario giordano del suo nuovo libro un libro che ha già creato scompiglio nel mondo culturale che ha sollevato una domanda fondamentale secondo me la domanda è questa perché mario giordano continua a scrivere dei libri se ne sente il bisogno allora io per dare una risposta ho fatto una mia indagine personale tra la gente e ho chiesto lei sente il bisogno di un nuovo libro di mario giordano e tutti mi hanno risposto certo non vedo l'ora che esca e io ho capito che mario giordano ha una popolarità enorme immensa in questo libro cotto e mangiato ma non è sanguisughe in questo libro sanguisughe mario giordano si interroga sul mondo delle pensioni io però prima di parlare dei contenuti volevo soffermarmi sull'aspetto stilistico perché questo libro per la prima volta non è una fredda analisi condita con dati cifre diagrammi no questo è un libro anche scritto male scritto da cani però è un libro interessante perché cita dei casi che mi hanno lasciato sconcertato ad esempio io sono rimasto basito leggendo di quel pensionato che prende 90 mila euro al mese e poi c'è quell'onorevole che è stato in parlamento solo un giorno e percepisce la pensione da deputato però scusa mario io non vedo traccia nel tuo libro di altri casi inclatanti perché ti sei dimenticato ad esempio di citare il caso di quell'anziano 94 anni di alzano lombardo che prendeva la pensione di invalidità e invece continuava a giocare tutte le domeniche nel milan in difesa e le baby pensioni vogliamo parlarne perché non hai citato il caso di quel bambino di mazzara del vallo che ha partecipato a iocanto di gerry scotti aveva solo sette anni e ha detto di aver pagato i contributi per otto anni non c'è discrepanza e poi mario scusa ma non si può non citare il caso di quell'anziano 74 anni sesso dipendente che ha sperperato una fortuna in palli della lab dance in vestitini da poliziotta e da infermiera e in statuine con enormi falli di marmo senza neanche farsi fare lo scontrino fiscale incrementando così il mercato nero degli enormi falli di marmo ora io credo che per le pensioni le soluzioni ci siano ma bisogna guardare all'estero ad esempio guardare alla grande riforma pensionistica dello stato dell'ex congo bongo in africa centrale lì il problema delle pensioni è stato risolto alla radice gli anziani li fanno mangiare ai cannibali allora qual è la soluzione o passare al cannibalismo oppure ci rifacciamo a schengen ora il problema di schengen è ma dove cavolo è schengen io sono andato a vedere sull'atlante non trovo traccia di schengen ci siamo mai chiesti dove è schengen c'è mai un volo della ryanair che vada per tutto che porti a schengen hai mai visto un turista in italia che venga da schengen un camper targato schengen questi sono fatti io non ci casco nella trappola di maroni che dice fuori da schengen no io dico tutti gli anziani a schengen li attiriamo a schengen con delle piste di ciclabili con delle campi da bocce dico io con dei locali di liscio creiamo un flusso migratorio e potremmo dire con la lega anziani flora di ball a schengen bene io vi saluto tutti col mio saluto cordiale se l'ho scritto male lo giudicheranno i lettori però lui è finito un po' fuori tema alla fine con schengen invece parliamo di questo libro scusa poi posso dire una cosa perché giustamente l'onorevole pomicino ha subito se mi segnala dei casi siccome io per fortuna conto di fare ancora tante edizioni già quattro ne abbiamo fatte conti fanati dei giornalisti che guadagnano 9.363 euro al mese io glielo garantisco che li inserisco immediatamente però è vero che ad esempio vittorio feltri ha una pensione una bella pensione dal 1997 ha continuato poi a fare il direttore adesso dire vittorio feltri anche emilio fede no ma la cosa che mi colpisce io non ho studiato no andiamo dopo nel dettaglio perché se no andiamo nome per nome noi abbiamo creduto giusto parlare di questo libro perché è il primo libro di questo anche i maggiori dettatori devono darne atto non solo è scritto bene è scritto con una valanga di dati che messi insieme segnalano una sorta di olocausto non solo stupiscono perché il parlamentare in pensione un solo giorno di lavoro il totale del costo delle pensioni dei parlamentari che è 200 milioni di euro 204 per l'esattezza alcuni prestigiosi professionisti che hanno fatto cause che sono durati anni per ottenere una pensione retroattiva il cumulo delle pensioni che è la vera come dire stima della casta ci sono persone che sono riuscite a ottenere facciamo il caso di scuola di Giuliano Amato una pensione per il loro passato di professore un vitalizio per la loro attività parlamentare cosa che giusta e legittima ma poi hanno ottenuto addirittura anche qui con un'azione controversiale di veder riconosciuto come trattamento previdenziale persino il passaggio per un'autorità allora non siamo di fronte a alcuni episodi e qualche piccolo spreco siamo di fronte a un sistema che porta alcune persone garantite in alcuni casi anche stimabilissime a proteggersi di fronte ai giovani che hanno davanti questa promessa lavorerà il doppio e otterrai la metà c'è una casta una casta molto ampia e trasversale che si è garantita totalmente e ha garantito il suo futuro quindi sangue su che è il primo libro che racconta questo fenomeno che io spero sia da condannare spero che sia un libro che cambi le cose giordano perché io intanto chiedo scusa appunto per la mia voce che questa effettivamente ragione genia gnocchio è così ed è fastidiosa abbiate pazienza e no il fatto è che negli ultimi anni sono stati chiesti agli italiani moltissimi sacrifici nel campo previdenziale e per carità molti sono anche giusti e sacrosanti il problema che mentre si chiedevano i sacrifici agli italiani in un sistema che è quanto mai complesso perché il sistema del previdenziale è davvero quello che si dice con un modo di dire una giungla nel senso che esistono norme normicelle codicili eccetera eccetera e all'interno di questo sistema così complesso sono rimasti inalterati tantissimi privilegi e allora io credo che sia per una ragione economica citavi 204 milioni che costano ogni anno le pensioni parlamentari ma anche per una ragione di principio nel momento in cui sentiamo ogni giorno chiedere agli italiani è necessario fare altri sacrifici la stretta sulle pensioni bisogna fare altri sacrifici bisogna allungare l'età pensionabile nel momento in cui io inizio il libro diceva prima luisela costamagna dedicando una pensione che è una persona che prende la minima un'anziana pensionata che prende la minima quindi poco più di 400 euro al mese e che per una ragione di incastri particolari di quel mese si è visto nel mese di luglio 2000 e che capitare dall'inpsi il cedolino con 0,78 centesimi di euro allora nel momento in cui viene che vengono chieste avvengono queste cose pensare che ci sono persone che prendono in base appunto a questi privilegi privilegi 90 mila euro o doppie triple quadruple pensioni secondo me è una cosa da denunciare per cercare di cambiare però perché avviene tutto questo c'è voglio dire c'è stata la casta di rizzo e stella l'indignazione c'è la crisi economica appunto dobbiamo tirare tutti la cinghia uno punta riflettori sulle pensioni ed è ancora tutto lì sanguisughe in fondo voglio dire si era parlato anche di un rivoluzionamento della politica dei semplificatori di quelli che dovevano combattere perché arrivavano dalla società civile le cosiddette casse di privilegiati e che fino hanno fatto ci sto alla cosa del non cambia mai nulla che poi l'altra cosa per un dice che serve denunciare tanto non cambia mai nulla rinunciamo ci fa venire solo il mal di pancia credo che invece il mal di pancia compreso quello di rizzo e stella con la casta e quelli successivi in realtà delle cose le cambiano faccio un esempio luca telese cita prima il caso dei parlamentari in pensione con un giorno c'è un parlamentare che avendo fatto un giorno in parlamento dal 12 maggio al 13 maggio 1982 da circa 30 anni prende 3.108 euro lordi al mese è vero sono lordi come dice l'onorevole pubblici ma sono 1766 euro al mese che scorrono da 30 anni per un giorno un giorno in parlamento questa cosa oggi non è più possibile oggi sono necessari i cinque anni parlamento quindi qualcosa è cambiato io dico per me avessi detto ai normali lavoratori vengono chiesti 40 anni di contributo parlamentare bastano cinque anni io dico bisogna bisogna fare qualcosa che non funziona per carità se no non avrei scritto il libro per esempio quello che dicevamo il dottor leonardo 58 anni 22 incarichi di consulenza nel 2006 si è fatto riconoscere una pensione ritrattiva risalente al 1977 allora la domanda che faccio a pomicino perché così mettiamo i pilastri e poi possiamo discutere perché il libro ha tantissimi spunti è il diritto acquisito questa è una delle parole chiave della politica italiana deve essere considerato acquisito per sempre cioè giordano cita 450 mila baby pensionati dobbiamo considerarli intoccabili perché ci sono state delle leggi che in alcuni casi gli hanno consentito di andare in pensione con un anno tre anni due anni di lavoro sì ma prima della domanda siccome siete tutti un po' fuori strada se bisogna un attimo di capire innanzitutto devo dire che ci si ascolta che questo libro va letto va letto va comprato naturalmente va letto perché oggettivamente è una fotografia di quella che a mario giordano ha definito la giungla retributiva che altro non è che lo specchio di alcune difficoltà politiche della prima e della seconda repubblica e della frantumazione degli interessi che ci sono stati in questo paese voi però avete un problema serio e vi dovete mi dovete venire a trovare e parlare a lungo voi sapete che sono uno specialista in malattie nervose e mentali non fatere dire i parlamentari quelle quella quel fatto di un parlamentare un solo giorno ha ragione giordano poi la rosa non c'è più ma perché adesso non la prende ancora certo non possiamo spararmi no no però si può togliere io sono scusi la interrompo su un anno però il su questo tema il diritto acquisito il diritto acquisito se è un errore è un errore acquisito gli errori acquisiti si cancellano per me il parlamentare che prende la pensione un giorno quella pensione e l'abbè tolta non è un diritto acquisito non parlate di parlamentari ma ho capito ma voi potete fare le domande e volete sentire la pensionata è andato in riposo nel 1983 a 32 anni adesso non parlo più con loro adesso dirò anche delle spettatori mario giordano fa l'elento dei più ricchi non c'è un parlamentare non c'è un parlamentare i 204 milioni di euro pagati dagli italiani e certo non dai francesi e non c'è dubbio e non c'è dubbio pagato dagli italiani e non c'è dubbio mi ascolti noi veniamo dal regno di sardegna quindi i problemi sono antichi anche pre unitari ma detto questo il dato vero è che i 204 milioni 240 adesso non ricordo che è la somma della spesa dei parlamentari e che da vent'anni i parlamentari in vitalizio sono diventato una quantità enorme perché una volta i parlamentari stavano almeno 10 15 anni in parlamento adesso invece li cacciano subito da una legislatura quindi in realtà i 204 milioni non sono la somma di pensioni altissime ma sono la somma di numeri altissimi dipende della mortalità quindi continuiamo così facciamoci del male andiamo in pubblicità torniamo tra pochissimo sentire delle belle